Torna dal 18 al 20 ottobre l'ottava edizione del Festival Meno Alti dei Pinguini dedicato all'infanzia 06 con tre giornate all'insegna della scoperta della creatività e della partecipazione. Un'edizione animatissima e piena di collaborazioni che dimostra come in questi due giorni Arezzo si candida ad essere la capitale della riflessione ma anche dell'azione dedicata alle politiche 06 capaci di, come dice il titolo, vedere il mondo dall'altezza dei bambini. L'edizione di quest'anno si ispira alla pedagogia povera della meraviglia. È un approccio pedagogico che nasce dallo studio di un attore che è Antonio Catalano che sarà ospite al Festival durante il convegno iniziale che terrà un laboratorio formativo per le educatrici e gli educatori e poi aperto alla città durante tutto il sabato quindi sarà a disposizione nelle sale di fraternita con questo meraviglioso laboratorio. Pedagogia povera della meraviglia è l'idea che non si può educare senza coltivare la meraviglia a tutti i livelli quindi ci piace dedicare questo festival davvero ai bambini ma anche agli adulti che possano recuperare questo sguardo. Laboratori, spettacoli, installazioni, tutti gratuiti saranno aperti a bambini e famiglie senza la necessità di prenotazione. Ci sono attività con la danza, con le arti visive, c'è un grande evento finale domenica e vi invitiamo tutti alla pagina bianca. Dal pomeriggio verrà stesa questa grande pagina bianca in cui sarà possibile lasciare un segno un messaggio colorato e si formerà grazie all'artista Ivan Tresoldi una opera d'arte partecipativa che è un po' il gran finale tra l'altro sarà attraversata dalla parata dei bambini con una banda ad aprire quindi è veramente il momento in cui chiamiamo tutti a partecipare proprio a rappresentarsi nella pagina bianca. E poi tante attività, laboratori, l'importante è che si sappia insomma che sono tutti laboratori senza prenotazione quindi potete venire direttamente e ci sarà sempre un posto per i bambini e le bambine per esplorare gli spazi educativi, per fare le attività quindi veramente il desiderio è quello di accogliere tutte le famiglie in questi tre giorni dedicati appunto ai più piccoli.